Rivolgo al Sindaco un invito. Sindaco, dimettiti, dai dimostrazione di accettare lo stato di fallimento nel quale hai portato la città. Ai consiglieri comunali chiedo pure, consiglieri comunali, se volete fare un ultimo atto di irresponsabilità e volete dimostrare di voler bene a questa città, chiedete immediatamente le dimissioni o se è il caso sfiduciate questo Sindaco e questa amministrazione perché ormai le sorti della città sono appese ad un filo e che si torni immediatamente a votare. E' un fiume in piena l'avvocato Lucio Greco, presidente dell'Associazione Cittadini per la Giustizia, che ha monitorato passo dopo passo la vicenda agroverde, è considerato che tutela gli interessi di coloro i quali aspettano i soldi in merito all'esproprio dei propri terreni in cui dovrebbe sorgere il più grande polo agrofotovoltaico d'Europa in Contrada Zai a Gela. Un ulteriore imboverimento di questa portata significa fare crollare, fare collassare l'economia della città. E in tutto questo non c'è dubbio che ci sono delle fortissime responsabilità politiche che vanno certamente addebitate e sono riconducibili ad iniziare dal primo cittadino, dal Sindaco di Gela, che continua a non dare risposte a tutte le domande che sono state poste e quindi tutto questo non fa altro che creare una situazione di confusione, di scoraggiamento, di delusione e anche di pessimismo che regna in maniera sovrana. Da ieri, così come deciso il termine del Consiglio Comunale di un discorso, si sono dati due mesi di fiducia all'agroverde. Entro questo termine si deciderà il tutto, ma come sottolinea lo stesso greco, oramai i proprietari tarrieri sono stanchi di aspettare e non solo. Non c'è dubbio che i proprietari, per quello che mi riguarda dal punto di vista professionale e come Presidente dell'Associazione Cittadini per la Giustizia, faremo di tutto perché vengano indennizzati dell'esproprio dei terreni che hanno subito. Faremo di tutto azioni prima, se possibile, stragiudiziarie e qualora con le azioni stragiudiziarie non si dovesse accettare o liquidare quanto al loro spettante, in quel caso certamente, nostro malgrado, se saremo costretti, aderemo anche le vie legali per fare ottenere quello che è giusto che i proprietari accettino e ricevano come indennizzo dell'esproprio subito.